Soccorso recuperato, un biker siracusano è fortunatosi nella zona del castello del Marchese, nel territorio di Cassibila, Siracusa, geolocalizzato in remoto dai tecnici di ricerca al fine di mantenere in sicurezza sia i soccorritori che l'uomo in intervento, vista le particolari condizioni del terreno e il sopraggiungere del buio. L'uomo è fortunatosi per una caduta, presentava diversi sospetti traumi per i quali si è proceduto a immobilizzarlo e imbarellarlo per essere evacuato mediante barella portantina fuori dalla zona impervia, lungo un crinale in risalita fino ai mezzi fuoristrada per poi raggiungere l'ammulanza 118 in attesa di una zona più agevole affidato ai sanitari. Il biker è stato trasportato alla pronto soccorso sul posto insieme ai tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano, presenti i vigili del fuoco, la guardia di finanza e il personale sanitario del 118.